La settima giornata del campionato di eccellenza si era aperta con il successo esterno del Mazzara 46 sul campo dell'Atletic Club Palermo grazie alla punizione di Licata e al 2-0 del Castellammare che ha ritrovato la via dei tre punti che mancavano dalla prima giornata contro il Geraci per 2-0 Mannino e Ba i marcatori Domenica tutte le altre gare L'Accademia vince in casa dell'Aspa grazie alla rete all'84esimo di Simone Guaiana 2-2 della Folgore Lo Sciacca guanta il pari in pieno recupero con Seccan stesso punteggio del Mazzara contro il Marineo alla prima di Mister Totò tedesco in panchina e l'ex De Luca a rovinare la festa dopo che i Giallo Blu avevano inizialmente capovolto il risultato dopo l'iniziale svantaggio a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa Ancora nessun punto recimolato in casa dal Fulgatore che cede 1-0 al Profavara grazie ad un rigore contestato dai locali ma trasformato da Cannavò In promozione il San Vito fa parte del gruppo delle prime tre della classe i ragazzi di Mister Comito ottengono una vittoria fondamentale a Terrasini contro la Giardinellese Rosone sblocca il punteggio all'ottavo su Assit di Cicala pari locale al 44esimo Buonaventura decide al 79esimo Secondo successo consecutivo del Marsala che dopo lo 0-1 di Castel Termini si replica a Strasatti 3-2 con il Partini Caudace Gli azzurri rimontano con Vetrano e Iannotti che sigla una doppietta Vivona a tre dalla fine evita il KO interno dell'Alba Alcamo contro il Bagheria Insieme al Renzo Lopiccolo Terrasini l'altra imbattuta del girone A di prima categoria è il Belice Sport di Mister Vito Alesi 4-0 al Cinisi due gol per tempo per la società Cara Nino Dai con le reti di Carovane e Sinacori nel primo tempo e Piazza Ferracane nella ripresa Bene anche il Salemi alla seconda vittoria di fila 1-0 sabato contro il Camporeale a decidere il gol di Fratello all'ottantasettesimo solo 1-0 dell'Alcamo 1928 sul campo dello Sport Palermo inizio di secondo tempo letale per la Margheritese il Valderice vince grazie ai timbri tra il 47esimo e il 52esimo di Cammarata e Spadaro e sbaglia anche un penalty con Capitana D'Amo periodo complicato del Custonaci che esce sconfitto contro la Primavera Marsala 4-0 del Terrasini sull'Atletico Marsala